Allora al mercato ho comprato un chilo di piselli freschi, li ho sgranati, vedete, tra poco li cucinerò, però questa volta non voglio fare una ricetta sui piselli, ma sui baccelli, ho preso i baccelli più belli, vedete, li ho sciacquati per bene e adesso li metterò in una padella, no anzi no scusate in una pentola con dell'acqua e unirò anche una patata sbucciata a pezzetti, farò cuocere tutto con un dado vegetale per 30 minuti, in una pentola ho messo i baccelli di pisello, il dado, una patata tagliata a pezzetti e adesso come vi ho detto prima faccio cuocere per 30 minuti dalla ripresa del bollore. I baccelli e le patate sono cotti, adesso con il frullatore a immersione frullerò tutto e con i baccelli dei piselli abbiamo ottenuto una bella crema, vedete, adesso a questo punto vado ad aggiungere un po' di basilico fresco e un po' di menta e buona cena! Grazie!